L'audizione di oggi del Vice Ministro Catticala è stata positiva, quantomeno perché è la prima persona del Governo, anche vista la sua grande esperienza, che è venuta a dare un po' di rassicurazioni effettive sul fatto che il Governo sta prendendo sul serio questo argomento. Obiettivamente infatti sia le dichiarazioni di lettera di questa mattina, ma anche un comunicato stampa che si è letto oggi pomeriggio, lascia un po' perplessi sulla posizione attuale del Presidente del Consiglio, che sembra quasi come subire questa situazione col fatto che si tratta di un'operazione in ambito europeo che quindi deve essere libera di essere fatta tra società privata. Mi pare che l'opinione sia un po' diversa da parte di tutti i componenti della Commissione, qui stiamo parlando veramente di un caso di un'importanza straordinaria per il futuro del Paese, non dobbiamo ben differenziare la posizione da una parte della compagnia telefonica da quella della gestione della rete. Dobbiamo capire che questa è un'operazione dove con un 22% di telco di fatto un soggetto straniero, comunque europeo ma comunque spagnolo, va a controllare integralmente tutta Telecom, sia come Governance, come Consiglio di Amministrazione, sia a incidere in modo determinante sulle scelte degli investimenti di Telecom. Ricordiamoci che c'è proprio in atto in Commissione, stavamo analizzando con un'indagine conoscitiva tutta la problematica dello scorporo della rete Telecom, per mettere anche tra l'altro la rete a disposizione di tutti i soggetti, questo per il bene ovviamente del Paese, ma su questa rete è necessario fare degli investimenti veramente di grandissima importanza, che meraviglia anche oggi come possono essere fatti da un soggetto che obiettivamente, finanziariamente, come telefonica, non è certamente più forte di Telecom, quindi le perplessità sono molte, adesso abbiamo fatto questa prima audizione oggi di Catricalà che ha dato questa dimostrazione di grande attenzione, domani verrà il Presidente della Consum e poi arriveremo a una nuova audizione con Bernabè venerdì e martedì con il Presidente Letta. Diciamo che l'operazione non è ancora completamente conclusa, è un'operazione in itinere, anche se immaginiamo già definita molto in particolare tra i soci privati, ma ci auguriamo che ovviamente il governo, la parte politica riesca o a fermarla quantomeno per la parte di interesse pubblico o quantomeno a condizionare fortemente le scelte che comunque dovranno essere prese, ripadisco appunto quelle relative alla privatizzazione, alla scorpora della rete e ai conseguenti investimenti.